In questo momento l'attenzione di tutti è concentrata soprattutto sull'economia occidentale, l'Europa in primis, i problemi del debito dei paesi ormai non sono più periferici dell'Unione Europea, gli Stati Uniti con l'operazione twist di cui dicevamo prima, ma con le problematiche legate alla ripresa, all'occupazione anche oltreoceano, però i paesi cosiddetti emergenti, perché ormai sono emersi da tempo, continuano ad avere un ruolo fondamentale nella congiuntura economica internazionale. Ecco, professor Noci, quali segnali stanno arrivando da questi paesi? Direi soprattutto da Oriente, visto l'importanza di alcuni dei paesi emergenti come Cina e India. Ma cominciamo a dire con un dato quantitativo, questi paesi sono così importanti anche perché più del 50% della crescita del prodotto interno lordo mondiale deriva da questi paesi. Quindi alla faccia degli emergenti? Alla faccia degli emergenti, sono esattamente. Seconda considerazione, direi che la Cina sta cominciando a caricare le munizioni, nel senso che parlavamo prima di rating, ha lanciato Dan Feng, che è una quarta agenzia di rating, che comincerà, che una delle prime azioni che ha fatto ha cercato di valutare e porre una serie di elementi di attenzione anche sul titolo degli Stati americani, ha richiamato l'Europa a tutto un comportamento più consone rispetto alle prospettive di crescita. Direi, a parte questo, gli elementi estremamente interessanti sono, uno, si sta consolidando nel Far East soprattutto una sorta di corrispondenza dell'Unione Europea, si chiama ASEAN, sono i paesi del Far East che si stanno aggregando, che stanno cercando di definire una sorta di libero mercato interno. È un dato molto importante perché significa che l'attenzione non è più soltanto verso l'export occidentale, ma comincia a essere la risposta rispetto alla domanda loro, che è la domanda che cresce. Andiamo a vedere l'andamento in settimana di alcuni di questi paesi, quelli che vengono definiti con l'acronimo BRIC, cioè Brasile, Russia, India e Cina. Esatto, è stato più contrastato in questo caso l'andamento di questa settimana rispetto agli altri mercati, perché da una parte abbiamo infatti Mosca e Mumbai che guadagnano entrambe poco meno del 2%, dall'altra invece San Paolo e Shanghai ribasso rispettivamente dell'1,60 e del 3%. L'andamento dall'inizio dell'anno invece si conferma anche in questo caso decisamente negativo, con perdite comprese tra il 24-24% di Mosca e il 16% circa di Shanghai. L'indice generale è negativo al 22-31%. Allora, torniamo a parlare del risparmio degli italiani con l'aiuto di Fabrizio Fornezza di GFK Peorisco. Visto la complicata congiuntura economica nella quale ci troviamo ormai non da qualche mese, ma direi da tre anni abbondanti, dalla fine del 2008. Quanti sono gli italiani che riescono ancora a risparmiare Fornezza? Molti spettatori, tutti noi forse ci ricorderemo che nel recente passato siamo stati molto positivi sulla capacità degli italiani di risparmiare e sull'impegno degli italiani a risparmiare anche durante la crisi. Giusto per ricordarci i fondamentali, circa il 70% delle famiglie italiane dichiara di risparmiare, poi tanto o poco, ovviamente dipende dal reddito e da altre condizioni. Circa la percentuale risparmiata sta fra l'11 e il 12%, è ovvio che l'andamento del reddito nazionale ha fatto calare la quantità del risparmio. La situazione nuova nella quale ci troviamo quest'anno ci rende un filino meno ottimisti, come dicevo poco fa. In qualche modo è la prima volta nella quale noi troviamo una propensione al risparmio in calo degli italiani. perde nell'estate un 3%. Potrebbe essere soltanto qualcosa di temporaneo, però diciamo che l'aspettativa per i prossimi mesi, i prossimi paio di anni è di avere un risparmio nuovo, cioè la capacità di creare risparmio nuovo inferiore al passato. Quindi diventa, come avete detto voi all'inizio, diventa molto più importante la gestione adeguata dello stock, cioè del risparmio accumulato. Un punto fondamentale allora per aiutare i risparmiatori anche nel prossimo futuro è quello della comunicazione, soprattutto come abbiamo detto in momenti di incertezza, come è poi quello attuale. Maurizio Vanzella, come si sta muovendo il sistema finanziario in proposito? Un po' si muove e un po' non si muove. Posso dire come ci stiamo muovendo noi, come anima e come prima, che abbiamo una responsabilità molto forte nei confronti dei nostri clienti, nei confronti dei risparmiatori italiani. L'aspetto più importante, e questo è un'esperienza, qualcosa che noi abbiamo sempre avuto a cuore negli anni, per esempio nel mese di agosto, di settembre c'era una richiesta forte da parte dei risparmiatori di chiarimenti, perché è bombardato di informazioni, però effettivamente poi quando si ritrova a casa da solo col proprio estratto conto magari non capisce o ha delle domande semplici da fare. Soprattutto all'agosto che negli ultimi anni è un mese particolarmente caldo, non soltanto dal punto di vista, come dire, della temperatura atmosferica. Noi abbiamo fatto una scelta abbastanza forte, quella di fare tramite il web, delle chat in diretta straordinarie, 5, migliaia di persone si sono collegate, hanno fatto domande e noi rispondavamo in diretta, anche qui in modo semplice. Per esempio, io vedo che è ovvio che la crisi spaventa, però sono usciti anche dei libri molto belli ultimamente, fanno vedere come la crisi è sempre crisi, poi le motivazioni sono diverse, però se ci ricordiamo anche 20 anni fa, Wall Street ha perso in un giorno il 22%, poi si è ritornati fuori. Per cui il portare sulla razionalità, sul ragionamento semplice le persone, forse questo è già un aspetto. E noi, operatori del settore, ci dobbiamo mettere la faccia. Questa è una cosa importante perché nascondersi in questo momento, aver paura di dare risposta è la cosa peggiore. Per cui il risparmettore deve anche guardare chi gli parla in questo momento, in modo sereno, serio e soprattutto costruttivo per lui, ma che va per il sistema. Ecco, direi che a questo riguardo possiamo annunciare una interessante novità per la rete Perodeon, perché da mercoledì, proprio sull'onda del successo delle video chat che sono state fatte da Anima sul loro sito, hanno deciso di allargare questo esperimento anche alla televisione, quindi ogni mercoledì per un mese ci sarà una trasmissione in diretta alle 21.30, quindi anche lì ci sarà una grossa interazione con i telespettatori al cuore del risparmio in cui ci metteranno la faccia e cercheranno di dare delle indicazioni i gestori di Anima, ma anche degli economisti ovviamente, su che cosa sta succedendo, ma soprattutto che cosa si può fare con i propri risparmi in un momento particolarmente delicato come quello attuale. Quindi appuntamento 21.30 al cuore del risparmio, mercoledì prossimo. Domanda finale per Massimo Sposti, per tutti coloro che volessero affrontare l'attuale crisi con qualche conoscenza finanziaria in più, c'è a disposizione da ieri, l'altro ieri, da sabato, un manuale anticrisi pubblicato dal Sole 24 ore. Di che cosa si tratta esattamente? Si tratta di una serie di volumi con il Sole 24 ore in edicola il sabato, la collana è risparmio e investimenti in tempo di crisi, abbiamo cominciato con il manuale anticrisi, prossimo sabato le parole chiave del Sole 24 ore, tanti termini che avete ascoltato anche in queste trasmissioni. Questo è il volume di sabato, manuale anticrisi. È il primo che è uscito, infatti il secondo sarà appunto le parole, ecco qua, le parole chiave del Sole 24 ore, proprio per cercare di capire sempre, bisogna informarsi, bisogna leggere, bisogna seguire trasmissioni come queste, il Sole 24 ore è sempre schierato dalla parte del risparmiatore. Allora, noi siamo giunti al termine della nostra terza puntata di soldi di questa stagione, salutiamo i nostri ospiti, a cominciare... A cominciare da Maurizio Vanzella, direttore commerciale di Anima, società di gestione del risparmio, che insieme a Prima SGR ha un milione di clienti e opera con 150 partner commerciali. Grazie, arrivederci. Tornerà con Odeon mercoledì all'ora alle 20.30? Perfetto. Fabrizio Fornezza, direttore generale di GFK Urisco, uno dei più accreditati istituti di ricerche italiane. Grazie. Buonasera. E ancora un grazie al professor Giuliano Noci, associate dean del MIP, la business school del Politecnico di Milano. Buonasera. Angela Maria Scullica, direttore di Banca Finanza del giornale delle assicurazioni, mensili di riferimento del settore bancario e di quello assicurativo e queste sono le copertine dei numeri di ottobre, anzi di settembre ancora, compagnie al vivio e popolari sottotiro. Grazie, buonasera. Massimo Esposti, caporedattore centrale del Sole 24 Ore, il quotidiano economico finanziario più diffuso in Italia. Grazie a voi. Questo è il sito, appuntamento ogni sabato con questi manuali anticrisi, appunto come il titolo del primo del Sole 24 Ore. Grazie a Roberto Di Lellis, caporedattore centrale del mondo, lo storico settimanale dell'RCS. Anche loro ne dicono che banche popolari o impopolari vanno, come dire, alla grande come notizia verità sui media finanziari in vista della copertina di questa settimana del mondo. Noi ci rivediamo quando? Come sempre, domenica prossima alle 21.30 sul canale nazionale numero 177 di Odeon, in tutte le regioni passate al digitale terrestre, in Lombardia anche sul canale numero 13, sempre del digitale terrestre, di Telereporter, oltre che in tutta Italia anche sul canale satellitare 896 di Sky. Inoltre da domani pomeriggio sarà come sempre possibile vedere questa e tutte le altre puntate sia sul nostro sito che è www.solditv.it, sia sul sito di Odeon che invece è www.odeontv.tv. Con questo è veramente tutto, io vi ringrazio, vi do appuntamento a domenica prossima, ore 21.30, soldi, Odeon TV. Mi raccomando, non mancate. E buon investimento a tutti, speriamo in un'altra settimana come quella che abbiamo passato. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.